Ci si sta disponendo, ecco Mario Draghi ed ecco Giorgia Meloni. È il momento fatidico, diciamo, la famosa campanella. Uno sguardo così, l'ilare compiaciuto, lo scampanellì effettivamente. E questa è l'immagine simbolica di questa giornata, l'equivalente repubblicano dello scettro che passa dalle mani, dalla mano del presidente Draghi alla mano della presidente Meloni. Ed ecco una fortissima stretta di mano, ed ecco i due sottosegretari, Garofoli accanto a Draghi, Mantovano accanto a Giorgia Meloni. E' il momento delle foto di Rito, ovviamente. E Draghi sta dicendo, va bene, eccoci, è fatta. Un saluto. La stretta di mano anche tra i due sottosegretari. Finisce così l'era Draghi a Palazzo Chigi, ma adesso stiamo per seguirne l'uscita formale e sostanziale, anche da un punto di vista emotivo. Questo è lo scalone che abbiamo visto prima salire da Giorgia Meloni. Qui, proprio dove si trova la telecamera, la aspettava Mario Draghi. E ora qui sta scendendo, per l'ultima volta, almeno per questo mandato, da Premier Mario Draghi. Con i suoi collaboratori alle sue spalle, il Presidente del Consiglio uscente, in questo momento anche in tutti i sensi, sta per essere salutato formalmente e non solo. Parto d'onore, presentato, onori al Presidente Mario Draghi.